E saremo ricchi ragazzi, benvenuti ad un'altra puntata sul canale, oggi siete in mia compagnia di Jackson E siamo qui per la Road to Legend in Wild, che in realtà la stagione sta per finire, quindi a Wild non ci arriveremo nemmeno Però cazzo se ne frega, siamo qui per divertirci, giochiamo, la season è finita Portiamo un mazzo così da passatempo, dai Guardi in questa maniera, un Reno Mage con qualche carta che ho voluto buttare così alla cazzo perché mi piaceva Ha detto chiaramente pulito Siamo contro l'Ozio Marius, 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 va bene, ok Oh, bellina sta gente, non la vedevo già da un po' di tempo Ragazzi, mi piace il Wild perché vedo carte che non vedevo da tempo, da anni E... beh, mi piace, assai che non ci giocavo in effetti, eh Ok, va bene Allora, 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 buttiamo la tizia Eh, lo so, lo so, è una scoperta molto incredibile Ma, sì, andiamo a troll, dai, per primi livelli, passiamoci il tempo, andiamo un po' così a troll, dai Andiamo a troll o ad orchi Uh, ma addirittura Ok, giusto, ci sta, ci sta Ora noi ripuliamo questo E buttiamo lui E se è un po' mi dispiace, però non è un problema Turno 4, Kazakus, potrei creare qualcosa che mi pari il culo Io farei una magia di Cimano, comunque Ne approfitterei No, ma vaffanculo, no, non glielo pingo, andiamo tutto a faccia invece, dai Pensavo peggio, via Andiamo in questa parte Andiamo allo zio Marius, cosa ci dice Ok, va bene, perché? Perché, amico mio, mi fai così Allora, a sto punto io me ne sbatto le balle e vado di Kazakus Magia 10, ignorante Se danni a tutti Oh, cazzarola Tutti in pecore Tre servitori Salute i tuoi servitori Boh, tutti in pecore, via, tutto faccia Ragazzi, dateglielo a lui, eh Dategli al razziatore Che fa? Ah va, addirittura, ma che... Tu non prendi la Carmela, se mai Vabbè, dai Allora, diamogli pure questo Allora, me lo marcio Buono così Va bene, va bene in questa maniera Il vate Non c'è altrimenti Non cazzo le avrei buttate a farmi interessa 8 e 5 Va bene così Uh Eh, lo so, i biscotti Allora, 1,7 Non è male Perché mi sono rotto un po' le... Vabbè, voglio, lo pinghe via Ok Ma questo mondo... Felici pioniera Tanto quello me lo trado a lui Ma quanto è quell'1-1 Tanto vale Me lo autotrado io e buonanotte Ok Ok Ah, che addio Mi sta buttando di tutto e di più addirittura Vabbè, approfittane che vuoi che ti dica Allora, potrei buttare la tempesta... La tormenta Muore, 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 muore Muore, muore Ma una 2 Ok 1 Tormenta Ci mettiamo una marea di danni Ma non me frega Vabbè, dire, marea 2-4 Andiamoci di lei Ok Va bene Come... Lui, come immaginavo In ogni caso va anche bene In entrambi i casi Abbiamo Zola Gest predatore Che cazzo è andato a buttare Dai, l'abbiamo ripulito la bordo È semplice, è semplice In maniera così Ok Va bene, giusto Ma che cazzo... Ma che cazzo... Boh Non lo so affatto Sono una mezza minchiatona Allora, andando questo lo tolgo Ok Allora 8 carte Spacchettiamo Ma no Non me ne frega niente Andiamo avanti così Pinga... Boh, pingiamo faccia Tanto andrà in trade O andrà tutto a faccia 2-2 Toglierà il 5-2 3-4 Toglierà questo E 5 andrà a faccia Penso Sè Ok Va tutto a faccia Infatti Tra di l'alse 4 Infatti C'è stato a buttare pure Zola su Elisa Alla fine Se ne fregava Ok Bella giocata Tecca Bruciamo tutto Ciao Ripulite il campo L'abbiamo lasciato con 2 carte E noi Ci divertiamo un pochettino 2-4 5-6 Spacchettiamo Non hai Non ha drag in mano Allora 8 carte Facciamo così 2 Andiamo tutto a faccia E smettiamo un pochettino Così di giocare Allora Mettiamo pure questo segreto Sputiamoci la mano Poi spacchettiamo E ci divertiamo E' bellino Dai Alla fine Più un attacco Che provoca Cazzo E' un drag in mano Si si Metti Metti tutto quello che vuoi Ah va Dai Non ti funziona E' finito Va bene Weee Weee Allora 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 Ma bellino Mi prendo questo invece Vai uguale Levo lui Spacchettiamo 9 carte Oh questo è bello Abbiamo qualche elementale Si 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 Marlock Vabbè Non ci metto in turno Lo vuole fare Quello che vuole fare Ok 3 danni Un servitore Io ho 3 pterodattini Vabbè dai Non è male Ma che è 5 modi Ma che carta strana Allora Fanculo Allora Togliamo sto tizio E via Ah Non ne potevo fare a meno Scusate Bellissimo Allora 3 danni Vabbè Togliamo qualche cosa 5 Buttiamo un marlino Vabbè Certo la ripassivate Non è male Allora Allora Vediamo cosa abbiamo qui 7 3 10 Congiliamo a tutti Potrei fare qualcosa Di molto Oh Scialloso 5 3 8 Facciamo così Diamo 3 danni a lui Ci vediamo 3 pterodattini Congiliamo a tutti Questo Gli ropingo E lo leviamo Compensa abbiamo Col fire No Andiamo con lui Invece No ma l'elementare Non l'ho giocato Quindi alla fine Il portale Vediamo che esce fuori Nel caso abbiamo Il blocco di calcio Ci parla Le chiappette Oh c'è anche Enzo Togliamo lui Boh dai Non è male 1 2 3 Pinchiamo Enzo Andiamo Sette carte in mano Ok Ok va bene Abbiamo riportato tutto Di nuovo Abbiamo ribaltato tutto Che fa? Si Non è male Addirittura 5 15 Oddio Fallo con lui Anche se tanto Beh oddio Non è male Non è male In effetti Però Scegliamoci Gli zebedei Così Oh Allora Mi serve L'elementare Per forza Da giocare Poi che abbiamo Oh buttiamo lui Sbatacchiamo Gli zebedani Addosso 5 6 5 7 Trudiamo Dolce Vabbè Questo Glielo Pinghiamo Pure Allora Lui è andato Tutto a faccia Quindi sinceramente Non mi frega Niente 6 Vediamoci due servitori Vediamo cosa ci offre la ditta Bello Ok Ok Non è male Non è male Questo è bellino Sinceramente Tecnica pietra dente Dubio due servitori Nato a mano Beh l'abbiamo un bel po' In effetti Per caso non potrebbe Baffare Calimos Ma chi se ne frega Potrei fare Calimos Zola E Calimos Per dire Cioè Oddio Cioè con Zola Posso spizzarirmi Una marea qui Però Però Potrei buttare pure Reno Così Senza Zola Alla fine Va a fare un bagno Va bene Ok Calimos 6 danni 12 salute 3 danni Iscriviti ai nemici Ciao A tutti Bene L'abbiamo Azzerato tutto Tutto a faccia Ciao 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 Ok Il tizio si è reso E possiamo andare avanti Ci becchiamo pure Quest'altra stellina Dai A meno che non hai un Non lo so Ecco bravo Vabbè ragazzi Dai il mazzo è molto Molto scialloso Comunque Molto divertente Quindi che dire ragazzi Spero vi state divertiti Se non vi siete iscritti al canale Vi invito ad Iscrivervi Che dire Attivate la campanellina Lasciate un commento Date consigli Ragazzi Fate quello che volete Siete la vostra libera scelta Che dire Spero vi siete divertiti Grazie per la vostra compagnia Alla prossima ragazzi